Ciao, sono Zanaditurbla.it. Come probabilmente avrai indovinato, sono tornato qui in Piazza Riostrea a Ferrara perché finalmente abbiamo definito la data del nostro incontro Crypto Espris, che si terrà appunto qui in Piazza Riostrea venerdì 3 agosto 2018. Ci sarò io, Zanaditurbla.it, una serie di altri amici con i quali parleremo di criptovalute, bitcoin, neo, litecoin, blockchain, sviluppo eventualmente di software su blockchain e tutto quello che appunto ci verrà in mente. Quindi se ti interessano questi temi oppure sei semplicemente curioso di saperne di più sul mondo di bitcoin e delle criptovalute, ti aspetto qui in Piazza Riostrea venerdì 3 agosto 2018. L'evento inizierà più o meno verso le 20 di sera e durerà più o meno fino verso le 22. Per tutti i dettagli, la piantina, le coordinate esatte, la data, se ti è scappato qualche dettaglio, clicca sul link testuale che trovi qua sotto per leggere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbo.it con tutte le informazioni in merito a questo evento. Ti ricordo che non c'è biglietto da pagare, non è una convention, non ci sono speech, non c'è tutto assolutamente molto informale e appunto ci ritroveremo semplicemente per fare delle chiacchiere fra amici. Bene, ti aspetto allora, a presto, ciao!